Buongiorno a tutti i nomi di Dio, sono delancio, sono blu, ascoltano dei piccoli regni insieme per i giorni che sono fuori, che sono fiumi e di fischia. E come siamo i precedenti, facciamo presente che è stata stata in diretta il mondo di giorni di internet. Ecco la premiazione. La premiazione è ingerita al ministero di questo momento, dovete vedere a voi se non vengono questa serata o cosa volete. Anche i minister, anche i minister! Un saluto all'Australia! Aspetta, aspetta! Un saluto all'Australia! Grazie, grazie! Un saluto all'Australia! Di un saluto alla piazzata, ciò che ho vincato ce l'abbiamo stata noi! Un saluto all'Australia! Un saluto all'Australia! Un saluto all'Australia! I minister anche, dai mister! I minister! Un saluto all'Australia! In coro, in coro! Il pubblico! Tutti in diretta, eh! Il pubblico! Buonissimo! Buonissimo! Fantastico, buonissimo, ciclo! Siamo ragazzi dello spettacolio del campo! Tutti a fare la doccia! Buonissimo! e un grazie anche a Massimo Brandino, il nostro webmaster, un saluto Massimo!